Signori bentornati su Rainbow! Raga bentornati, 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 bentornati Allora signor... Ma che cazzo è? Ragazzi già droni in mezzo ai coglioni Allora raga premessa sono due settimane di no Rainbow per me E voi vi starete chiedendo ma come mai, come mai i video sono sempre usciti? Perché ho tutti i video pronti raga Il problema, ok, anche se sono organizzato con i video è che comunque è due settimane che non gioco a Rainbow Quindi non lo so ragazzi vedremo, vedremo come va la situation Vedremo veramente come va, eh Non ho paura, posso dire che ho paura? Ho veramente, veramente paura ragazzi Allora ci siamo Ferrira, Alibi, Mira, Valkyrie, ok questa me la barrico però Ah ok stanno bucando qua Usa un nuovo caricatore Uh, frate È qua fuori ragazzi E le due settimane di no Rainbow non ci fermano ragazzi Uh, uh, uh Mamma mia ragazzi la mia tecnica del cazzo in confine se entrano per di lì è miticolosa Perché sei coperto dietro col cazzo dove ero io Davanti sei abbastanza coperto Senti quando rompono se non hanno breacher Mamma mia ragazzi Oh ragazzi round durato pochissimo ma mi va bene così eh Mi va bene così ragazzi Buono, buono Ok ragazzi Siamo in bagno E allora Io sto sotto con pulse Mi barrico queste quattro qua Perché così loro possono entrare solo da questa porta qua no? Cioè secondo me è un'ottima scelta Barricare qua Vabbè raga faccio un po' di roba e ci vediamo in attacco o in difesa Vediamo come procede Anche perché se c'è qualcuno sopra o pulse Quindi sono coperto da entrambi i lati Si può dire Si può dire così Anche questa va barricata ragazzi mi raccomando Le bottole vabbè le faremo Facciamoli perdere un po' di tempo A posto ragazzi Noi siamo coperti qua eh Però ragazzi nessuno sta barricando Questo è un problema Bravo bravo Barrica Barrica Ok C'è qualcuno sopra? C'è qualcuno sopra che vuole rompermi i coglioni? Ok 5v4 Buone Se c'è qualcuno qua Non sento nessuno Ah 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 ok testa mamma mia frate oh frate ma vai a prendere un colpi ok porca troia buono ragazzi buono buono ok 15 sec dai dai ma che vedevo di ma che vedevo di ragazzi ma che vedevo di ma scusate com'è possibile ok che faccio una partita dopo due settimane di rimbo e accade questo 5-0 cioè com'è possibile cioè se gioco tutti i giorni cioè non mi viene non mi vorrebbe mai fuori una partita del genere com'è cazzo è possibile ragazzi o sarò concentrato non lo so boh o saranno scarsi i miei alleati probabile cioè scusate i nemici va bene non facciamoci non facciamoci domande pushano non so da dove cazzo buono dov'è ragazzi bravissimi eh cazzo ne so io dov'è questo fuori bravi eh ragazzi bravissimi bravissimi purtroppo in questo round potevo farmi guarda dove guarda ma che cazzo è ragazzi con chi stiamo giocando contro la squadra Hello Kitty veramente veramente vabbè allora peccato che non ho fatto niente ma va bene così dai va bene così ragazzi oh frate ma che cazzo vuoi fa si ma cioè vedi com'è la situazione ragazzi cioè questo fa esplodere le c'è qualcuno qua eh c'è qualcuno qua ragazzi lo sapevo coglioncetto che eri lì l'ho fatto cazzo c'è mira vado dall'altra parte ok ok buono ragazzi ok sperando che qualcuno non faccia sento qualcuno qua briccio ok buono buono frate spostati dal cazzo ok mamma mia plaz ragazzi ma che me posso raccontare ragazzi che bella partita 7-0 mamma mia avevo porre di prendere i bana chi è che stavo per far fuori di come alleato i bana cioè proprio in mezzo al cazzo era ragazzi i bana cioè una roba 15 minuti di partita una roba mai vista su rainbow six siege cioè ragazzi siamo stati super veloci sto guardando la registrazione 15 minuti di partita wow posso dire wow è stata una partita molto eh due incomi ma che voglio di più ma che voglio di più ma che voglio di più abbiamo giocato in due ragazzi nella mia squadra in due non hanno fatto kill ragazzi nella squadra avversaria sono senza parole dopo due settimane di non rainbow due incomi 7 kill 7-0 siamo quasi oro 4 cioè bello ci sta ci sta ci sta perfettamente ragazzi un cazzo di like un cazzo di commento per questa partita e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video di rainbow direi proprio di si ragazzuoli ciao